Mercato del 25 aprile, bellezza, al mercato, qui c'è un montaggio, 10 euro firmati, firmati d'annata, guarda che culo, ah queste ci stanno, le ore, le ore, guarda che bellezza locale, ragazzina in attesa, molto carina, bellissima africana, bellissima, stupenda, giallo e bianco. Chi cerca della signora? S'è persa, s'è persa la signora! Il Lucarelli! Ecco il Lucarello, lo riprendiamo, lo mettiamo su Youtube, il nostro uomo di neve, un'istituzione abbezzanese, non si gira? Ecco l'uomo in bianco che se ne va, il vecchio frac.